Musica Ancora buongiorno, ancora ben trovati, prima edizione del nostro telegiornale in formato interregionale. Siamo in regolosa diretta con le news da Puglia e Basilicata. In primo piano le elezioni comunali con tutti i risultati nei principali comuni, sono tanti, chiamati al voto nelle due regioni. Dobbiamo partire, come giusto che sia, da Bari, dove il primo turno ha chiesto agli elettori un bis fondamentalmente con Vito Leccese, il candidato del Partito Democratico, che arriva al 48,02% seguito da Fabio Romito, candidato del centro-destra, con il 29,13%. Niente da fare per Michele Laforgia, fermo al 21,75% e allora a Bari, come detto, ci sarà bisogno del turno supplementare, ci sarà bisogno del turno di balottaggio. Vediamo com'è andata nel nostro primo servizio. Da oggi ricomincia un nuovo percorso, un percorso che porterà il centro-sinistra nuovamente dopo vent'anni al governo della città, perché Bari ha deciso oggi che non vuole tornare indietro. Del resto c'è un dato inequivocabile. Sarebbe lottaggio classico a Bari, il centro-sinistra di Vito Leccese da una parte, il centro-destra di Fabio Romito dall'altra, in mezzo al cerchio che si chiude, Michele Laforgia che assicura il suo sostegno all'ex capo di gabinetto di Palazzo di Città. Un campo larghissimo, non ci sono né vincitori né vinti, insieme rappresentiamo il 70% circa dei consensi, apre le porte Leccese, il competitor lo chiama per suggellare l'accordo, niente delusione, resterà in consiglio a presidiare e l'esperienza politica continuerà. Questa breve dichiarazione è stata anticipata, come era giusto che fosse, da una telefonata diretta a Vito Leccese, nella quale io ho anticipato le poche cose che ho detto adesso e io ho confermato quello che ci siamo detti, abbiamo concordato io e lui qualche mese fa. Il centro-destra però ci crede, il primo obiettivo era il secondo turno, adesso si riparte dallo 0 a 0. Il primo obiettivo centrato, adesso ci rimane quello più importante, abbiamo fatto una cavalcata straordinaria in questi due mesi, perché il centro-destra partiva dal 20% ed è arrivato al 30%, il centro-sinistra partiva dal 66% ed è sceso al 47%, quindi con queste due settimane altre di campagna elettorale abbiamo la possibilità di parlare a Bari. Questa è la situazione, questo è il risultato a Bari, un risultato che per quanto macchiato dal ballottaggio appare comunque piuttosto chiaro. Meno chiaro invece è il risultato a Lecce, dove a sorpresa c'è stato questo espluato di Adriana Poli Bortone, già sindaco di Lecce, che ha raggiunto il 49,65% anticipando, superando Carlo Salvemini per il centro-sinistra, con il 46,99%. Un risultato questo ancora in bilico, anche questa notte si è andati avanti con il conteggio delle schede, un risultato quindi non ancora ufficiale, ma a Lecce si pensa sarà comunque ballottaggio. Vediamo il servizio di Maria Teresa Carrozzo. È stata una cosa bellissima per il centro-destra ritrovarsi, è stato molto bello perché ci siamo ritrovati davvero tutti quanti, nessuno escluso, ed è stata una splendida campagna elettorale. La corsa alle elezioni comunali di Lecce si è trasformata in una battaglia all'ultimo voto tra Adriana Poli Bortone, candidata sindaca del centro-destra, e Carlo Salvemini, sindaco uscente. I risultati hanno mostrato un test a testa tra i due contendenti, con Poli Bortone al 50% dei voti e Salvemini al 46,8%. Tuttavia, questa serrata competizione è stata rallentata da una serie di incidenti di percorso, che hanno creato tensione e incertezza nel contesto elettorale. Uno degli episodi più significativi si è verificato presso gli showbanzi, dove circa 300 schede elettorali sono state annullate. Questo imprevisto ha portato alla richiesta di un riconteggio dei voti, al fine di esaminare attentamente le schede annullate e garantire la massima trasparenza nel processo elettorale. Secondo lei è stato un voto di contestazione o un voto di opinione, quello che le hanno dato i leccesi? No, io credo che sia stato un voto di opinione più che altro. Sì, c'era anche un voto di contestazione, ma insomma questo era un fatto interno al centro-sinistra, effettivamente. Ma io ero convinta di una cosa in ogni caso, che in centro-sinistra indubbiamente la contestazione c'era, c'è stata, c'è, era palese. Ma alla fine poi loro si fanno i conti e quindi continuano a votare come voto un esercito. La situazione è essenzialmente complicata quando i carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno allontanato i rappresentanti di seggi dalle sezioni 35 e 85. E lo abbiamo visto, un vero e proprio testa a testa, quello andato in scena a Lecce, un testa a testa che non è ancora risolto. Andiamo sul sito Eligendo con i dati ufficiali forniti dal Ministero. Andiamo ad analizzare proprio la situazione di Lecce. 98 le sezioni scrutinate su 102, quindi questo vuol dire che mancano solo i dati di quattro sezioni. Al momento Adriana Poli-Bortone è al 49,64% con 24.749 voti. seguita da Carlo Salvemini con il 47% pari al 23.430 voti. Seguono Alberto Sicurella e Agostino Ciucci rispettivamente con 1,73 e 1,62. Ma la sfida, quella che ci interessa è proprio questa. Lo vedete, alla Poli-Bortone manca davvero poco per raggiungere la vittoria al primo turno. Allo stesso tempo vediamo che la percentuale di Salvemini e del centro-sinistra è cresciuta, seppur di poco, raggiungendo un 47% pieno. Ma al momento, lo ripetiamo, mancano ancora quattro sezioni. Quindi manca ancora il dato ufficiale, chissà che non arrivi proprio in mattinata, chissà che non arrivi proprio durante questa diretta. Diretta che va avanti con le altre news, con gli altri risultati. Dalla Puglia ci spostiamo in Basilicata con la grafica. Vediamo cosa è accaduto invece a Potenza con Francesco Fanelli per il centro-destra che ha raggiunto il 40,60% seguito poi dagli altri candidati, in primis da Vincenzo Telesca che invece ferma il 32,44%. Questo vuol dire che anche a Potenza si va al ballottaggio, si va al secondo turno. Vediamo cos'è accaduto quindi nel capoluogo lucano con il servizio di Francesco Cutro. Tutto rimandato al 23-24 giugno prossimo nel capoluogo lucano per conoscere quello che sarà il nuovo sindaco di Potenza. I 39.335 potentini che si sono recati nei 77 seggi cittadini corrispondendo al 71,71% degli aventi diritto non hanno infatti scelto al primo turno il successore di Mario Guarente in quanto nessuno dei cinque candidati sindaco ha superato la soglia del 50% delle preferenze. Ragione per cui i due più votati, Francesco Fanelli, candidato del centro-destra che ha ottenuto il 40% delle preferenze, e Vincenzo Telesca, le cui cinque liste a suo supporto hanno ricevuto il consenso e il voto del 32,5% degli elettori, si sfideranno al ballottaggio. Per quanto riguarda gli altri candidati, per Luigi Smaldone, appoggiato da tre liste, ha raggiunto il 17,8% delle preferenze, Francesco Giuzio, candidato della Basilicata Possibile, l'8,2%, mentre l'unica donna in corsa, Maria Grazia Marino, si è fermata all'1,25%. Il partito più votato è stato Fratelli d'Italia con il 12,93%, seguito da Forza Italia con il 12,80%. Buono il risultato della lista supporto di Telesca, uniamoci per potenza, che ha preso l'8,41% delle preferenze. E allora, continuiamo a parlare di elezioni comunali, lo facciamo con il supporto della nostra regia, curata da Michele Marchitelli, ma anche con le nostre grafiche, per cercare di fare un recap dei principali comuni. Partiamo appunto dalla Puglia, partiamo da Bitritto, dove c'è un sindaco, ovvero Giuseppe, detto Pino Giulitto, con il 59,32%, ha superato Ernesto Aresta, fermo al 40,68%. Andiamo avanti con le grafiche, andiamo a Campi Salentina, anche qui c'è l'elezione diretta del sindaco Alfredo Fina, con il 72,42%, che basta per superare Serena Asensio, ferma al 27,58%. Andiamo nel Tarantino, a Carosino, con il sindaco Onofrio Di Cillo, 64,42%, che supera così Bruno Causo, con il 27,39%, e Saverio Zingaropoli, 8,19%, sindaco anche a Cella Mare. Andiamo avanti con le nostre grafiche, eccolo qui il sindaco Gianluca Vurchio, 68,68%, più ovviamente di Michele De Santis, fermo al 31,32%. Ballottaggio invece a Copertino, dove ci sarà bisogno appunto del secondo turno per scegliere il sindaco. E allora andiamo a vedere, facciamo un recap con il servizio sulle elezioni comunali a Copertino. Come avvenuto alle amministrative del maggio 2019, anche in quest'ultima tornata, gli oltre 21.000 elettori del comune di Copertino, unica città a superare i 15.000 abitanti, insieme al capoluogo Salentino, dovranno aspettare il secondo turno del ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco. Sfumano le speranze quindi per Giuseppe Rosafio, che ha già indossato la fascia tricolore dal 2009 al 2014, e per l'ex assessora Laura Lemanno, la quale si è presentata al giudizio degli elettori con la sua coalizione. Insieme è possibile. Si tornerà alle urne quindi il 23-24 giugno, quando si dovrà scegliere tra i due contendenti rimasti in corsa, il candidato del centro-sinistra Antonio Leo, che ha chiuso il primo turno con il 27,16%, e Vincenzo De Giorgi, il più suffragato che non è riuscito però a superare la soglia necessaria per portarsi a casa la vittoria, fermandosi al 42,98%. Il bilancio è molto positivo, anche perché siamo partiti un po' in ritardo come coalizione, abbiamo fatto un bel percorso insieme, abbiamo cercato, come ho più volte detto, di coinvolgere la città. Abbiamo avuto poco tempo, ma abbiamo cercato di portare avanti il nostro percorso. Ovviamente questo tempo in più ci porterà forse ancora di più a far conoscere quelle che sono le idee per la città, e sono convinto che la città sicuramente ci premierà. Sono più di 6.000 preferenze, abbiamo 2.000 voti di scarto rispetto al secondo, in ogni sezione abbiamo vinto, in 20 sezioni siamo arrivati i primi, proprio dimostrazione che la gente vuole il cambiamento, vuole Vincenzo De Giorgi con la sua squadra, ed è in tutto il territorio, perché poi vincere in 26 sezioni significa che in ogni parte della città, periferie, centro, centro storico, quindi è stato un bellissimo risultato. Non si poteva vincere al primo turno, era difficilissimo perché comunque ci sono dei competitor forti, però questo risultato ci fa vesperare. Noi da domani scarpe di ginnastica e continueremo a fare casa a casa, casa a casa e a far valere la nostra bontà, il nostro progetto. E allora il nostro Francesco Schiamano, che ha curato questo servizio, è chiamato appunto a seguire anche il turno di ballottaggio in quel di Copertino. Torniamo alle nostre grafiche, siamo nel Brindisino a Derchie, dove torna ad essere sindaco Giuseppe Margheriti, pensate, eletto per la quarta volta, con il 57,67%. Margheriti ha superato Cosimo, Mimmo, Valente, fermo al 42,33%. Per noi ieri ad Erchie c'era Fabrizio Caglianiello. C'è un po' di concitazione, le emozioni intanto nel tornare a Palazzo di Città? Credo che non ci siano parole per poter descrivere l'emozione, anche perché non è stata, almeno si è partiti, che non era sicuramente una scommessa certa. Una vittoria netta e forse anche inattesa. Giuseppe Margheriti sarà sindaco di Erchie per la quarta volta. Il 53enne, sostenuto dalla lista vicina al centro-destra Erchie che vogliamo, torna dunque a Palazzo di Città dopo il terremoto giudiziario del 2017, ha battuto Cosimo Valente, sostenuto dalla lista idea Erchie vicina al centro-sinistra. Un'emozione enorme, commenta commosso Margheriti, sommerso dall'affetto dei suoi sostenitori. Era difficile, c'era tutto il centro-sinistra in un'altra parte, c'erano dei fuori usciti dal centro-destra, c'era una corazzata contro di me, che ero solo con 12 persone. Questo è bastato... Un paese in città! Un paese in città! Da dove li ho lasciato sicuramente. Da dove li ho lasciato, riprenderemo a correre velocemente, perché non c'è tempo da perdere, e faremo tutto per Erchie. È stata un'esperienza traumatica, anche per come si è interrotta la precedente amministrazione, cosa ne resta? Niente, secondo me, gli ultimi tre anni... Sono da cancellare. Sono da cancellare, riprendiamo e cerchiamo di risollevare Erchie il quanto prima possibile. E questo appunto era il servizio con la cronaca dedicata ad Erchie, dove Giuseppe Margheriti torna ad essere sindaco. Noi torniamo invece alle nostre grafiche, andiamo avanti, andiamo a Faggiano, in provincia di Taranto, con il sindaco Antonio Cardea, che ottiene il 67,12% delle preferenze, superando così Angela Calviello, ferma al 32,88%. Ancora avanti, a gioia del Colle, anche qui c'è il sindaco Giovanni Mastrangelo, con il 71,14%, supera i competitor Giuseppe Procino, con il 20,30%, e Daniela De Mattia, con l'8,56%. Torniamo anche in Salento, andiamo all'Equilè, con il sindaco Vincenzo Carla, che ottiene il 44,73% delle preferenze, superando Fabio Lettere e Antonio Filograna. Andiamo avanti, a Manfredoni, invece sarà ballottaggio, con questi risultati, che portano al 46,66%, domenico la marca, sarà secondo turno, con lo sfidante Ugo Galli, al 25,71%. Andiamo avanti, ancora con le nostre grafiche, a Maruggio, riconfermato Alfredo Longo, con il 63,20% delle preferenze, superato agilmente, massimo 40, fermo al 36,80%. E andiamo avanti, con il fenomeno Mesagne, siamo nel Brindisino, dove è stato eletto, il sindaco più suffragato, di Italia, si tratta di Tony Matarrelli, che sfiora il 95%, il 94,57% delle preferenze, si ferma al 5,43%, Vincenzo Lotesoriere, il candidato di Fratelli d'Italia, ha un vero e proprio plebiscito, per Tony Matarrelli, riconfermato sindaco, Matarrelli che è anche presidente, della provincia di Brindisi, che ieri ha festeggiato, questo risultato davvero eccezionale, per noi sul posto, c'era Gianmarco di Napoli. Da sindaco più amato d'Italia, secondo un sondaggio di Iodata, dello scorso mese di ottobre, a sindaco più votato d'Italia, il passo è breve, e se esistesse una versione allargata, della smorfia, si potrebbe dire che Tony Matarrelli fa 95%. Il 95% dei mesagnesi aveva testimoniato il proprio gradimento al sindaco nel sondaggio e lo stesso 95% ha travolto ogni statistica nazionale e razionale, trasformando l'inizio del secondo mandato di Matarrelli in un record assoluto da quando in Italia il sindaco viene eletto direttamente dai cittadini. Un successo reso ancora più clamoroso se si pensa che il suo avversario, Vincenzo Lotesoriere, rappresentava Fratelli d'Italia. È un dato importante, un dato enorme, che registra un affetto smisurato dei nostri concittadini, che hanno evidentemente voluto premiare il lavoro che è stato fatto negli ultimi cinque anni, ma anche la capacità di aggregare l'intero campo largo che si è presentato unito e che registra questo dato del 95%, che senza dubbio produce gioia, ma anche la consapevolezza che occorrerà essere all'altezza di questo dato così importante. E dobbiamo dire che dall'altra parte, però, c'era una lista con un marchio importante, perché c'era il simbolo di Fratelli d'Italia, quindi questo risultato probabilmente ha un valore ancora più assoluto. Ha un valore ancora maggiore, perché evidentemente coloro che hanno votato le europee per Fratelli d'Italia hanno ritenuto che fosse più utile votare il sindaco di Mesagne, perché pur appartenendo a una corrente politica diversa, ritengono che evidentemente si sia lavorato bene e soprattutto ritenendo che probabilmente potremmo fare ancora molto per la nostra città. Questo è il risultato a Mesagne, noi torniamo alle nostre grafiche, torniamo anche in Salento, con i risultati di Novoli, il nuovo sindaco Marco De Luca, 58,55% delle preferenze, supera così Oscar Marso Vetrugno, fermo al 41,45%, restiamo in Salento, andiamo a Parabita con il sindaco Stefano Prete, per lui 76,43% delle preferenze, fermo a 23,57% dei voti, Alfredo Cacciapaglia. Sarà invece ballottaggio a Putignano, andiamo a vedere la grafica con Michele Vinella che dovrà sfidare al secondo turno, Luciana Laera, fermo al 32,60%. Andiamo avanti con le nostre grafiche, a Rutigliano, il nuovo sindaco Giuseppe Valenzano, 57,04% delle preferenze, ben di più rispetto a Roberto Romagno, fermo al 22,31% e Antonella Nacherilla con il 20,65% delle preferenze. Ballottaggio a San Giovanni Rotondo tra Filippo Barbano, 36,94% e Michele Crisetti, 36,25%, terza piazza ed esclusione quindi dalla competizione per Floriana Natale con il 26,81%. Ballottaggio anche a San Severo con Angelo Pasquale Masucci che ottiene il 43,82% dei voti e quindi dovrà vedersene al secondo turno con Lidia Colangelo al 23,39%. Un altro ballottaggio in un altro comune del Barese, ovvero Santeramo in Colle dove il secondo turno vedrà la sfida tra Vincenzo Casone 31,54% e Nunzio Zeverino al 26,91%. Andiamo a Statte dove c'è il nuovo sindaco si tratta di Fabio Spada che ottiene il 43,86% delle preferenze superando in questo modo Patrizio Artuso che supera di poco il 36% e Luciano De Gregorio che sfiora il 20%. Io non so se con l'aiuto della regia di Michele Marchitelli possiamo esattamente andare a Trinitapoli dove c'è l'elezione del sindaco ovvero Francesco Di Feo che ottiene il 35,99% delle preferenze superando al photo finish Anna Maria Tarantino ferma al 34,19% ed Emanuele Lo Sapio al 29,82%. Allora andiamo a Trinitapoli per fare un recap per capire cosa è accaduto nel prossimo servizio. Francesco Di Feo è eletto sindaco di Trinitapoli l'ex primo cittadino torna sullo scranno più alto di Palazzo di Città con il 35,99% delle preferenze superando Anna Maria Tarantino di un centinaio di voti la candidata del centrosinistra si ferma al 34,21% più staccato l'ultimo sindaco eletto prima del commissariamento Emanuele Lo Sapio con il 29,80% la certezza è arrivata poco prima delle 18 quando il vantaggio sulla Tarantino è diventato aritmeticamente incolmabile Di Feo resterà sindaco e non sostituirà in consiglio regionale Francesco Ventola neoeletto al Parlamento Europeo è stata veramente dura me la sono dovuta giocare scheda su scheda con i miei avversari a cui chiaramente mando un saluto perché veramente ce la siamo resa veramente difficile questa campagna elettorale molto equilibrata e adesso dopo questo momento così collettivo di gioia bisogna incominciare subito a lavorare cominciando a ripuscire il tessuto collettivo della nostra autorità vuol dire perché questa città è stanca di guerra è stanca di litigio questa città vuole ritornare a una segretà e a una normalità e siamo pronti per farlo io ce lo metterò tutto come esempio cominciando subito a verificare qual è la situazione del lente comunale a commentare la sconfitta del centro-sinistra Pasquale Lamarchia del Movimento 5 Stelle al fianco della Tarantino restano tutte aperte le questioni legate alle problematiche che la nostra città sta affrontando legate alla situazione diciamo di queste infiltrazioni criminali che noi riteniamo che sono ancora in piedi quindi non finiscono con questa campagna elettorale e noi con il nostro impegno saremo attenti come abbiamo già promesso durante la campagna elettorale a verificare la regolarità sia del voto e sia dell'attività amministrativa che verrà fatta subito dopo Andiamo avanti con le nostre grafiche stiamo per chiudere quelli che sono i risultati nei comuni pugliesi andiamo a Turi sempre nel Barese dove il collega il giornalista Giuseppe De Tommaso diventa sindaco di Turi con il 50.84% delle preferenze superando così Tina Resta ferma al 49.16% un altro risultato importante a Villa Castelli dove l'uscente Giovanni Barletta ottiene la riconferma con il 76.85% superando così i competitor ovvero Pietro Franco ferma al 17.17% e Antonio Rossini con il 5.98% per la Civica uniti per Villa Castelli a Villa Castelli dove ieri si è recato il nostro Davide Cucinelli per ascoltare il nuovo vecchio sindaco Giovanni Barletta un vero e proprio plebiscito quello del sindaco uscente di Villa Castelli Giovanni Barletta rieletto con il 76.85% dei voti circa il 20% in più rispetto all'elezione di 5 anni fa seguito da Pietro Franco con il 17.17% e Antonio Rossini con il 5.98% grande entusiasmo per Barletta che conferma la promessa fatta in campagna elettorale Villa Castelli diventerà bellissima ci stiamo riuscendo ci dobbiamo mettere ancora un altro po' di impegno si è aperto un ciclo quindi dobbiamo andare avanti per fare in modo che la città davvero diventi bellissima siamo sulla strada giusta perché Villa Castelli è bella ma come ho detto con l'impegno di tutti diventerà bellissima un'intera comunità che si è dimostrata al nostro fianco li voglio ringraziare ad uno ad uno avremo modo questo per farlo il modo migliore per ringraziarlo è continuare su questa strada del cambiamento dimostrando su tanti temi andando dal sociale e andando ai lavori dove abbiamo dimostrato la concretezza ecco vogliamo continuare su questo chi vorrà collaborare c'è spazio per tutti anche perché una città come la nostra una città piccola ha bisogno di tutti questa è la situazione a Villa Castelli abbiamo visto con le grafiche abbiamo conosciuto tutti i nuovi sindaci in Puglia facciamo un passo indietro andiamo nel Tarantino dove si votava a Carosino a Fagiana a Maruggio estate con l'elezione di quattro sindaci facciamo un recap con il servizio di Laura Milano non si sono fatti attendere a lungo i verdetti nel Tarantino in queste comunali 2024 è stato Onofrio di Cillo il primo a festeggiare la sua riconferma al timone di Carosino con quasi il 65% di preferenze rispetto al 27% di Bruno Causo per il centro-sinistra e l'8% di Cosimo Saverio Zingaropoli per Fratelli d'Italia dopo la città del vino è il comune di Fagiano a conoscere il risultato del voto ed Antonio Cardea vince nella città del presepe vivente per la terza volta col 67% delle preferenze rispetto al 33% conquistate da Angela Calviello sfida a due anche a Maruggio a vincere e Alfredo Longo anche lui sale sul podio per la terza volta consecutiva con la 63% dei consensi rispetto al 36% di Massimo 40% e invece Fabio Spada il nuovo sindaco del comune di Statte sfida a tre nella città dei dolmen delle gravine e Fabio Spada vince col 43% Deborah Artuso si ferma al 36% e Luciano De Gregorio al 19% nel Tarantino quindi un nuovo sindaco per Statte e tre invece dovranno portare avanti un programma per il quale i cittadini hanno riconfermato la propria fiducia e allora abbiamo chiuso quella che è stata quello che è stato il risultato elettorale in Puglia resta aperta lo sappiamo la questione su Lecce vi aggiorneremo anche nel corso di questa edizione torniamo in Basilicata vediamo cos'è accaduto vi abbiamo già parlato di Potenza dove sarà per l'appunto ballottaggio tra Francesco Fanelli e Vincenzo Telesca 40.60% delle preferenze per Fanelli contro il 32.44% per Telesca ci sono però tanti nuovi sindaci in Basilicata andiamo a vedere velocemente le grafiche con il comune di Avigliano il sindaco è Giuseppe Mecca 43.04% andiamo velocemente avanti con le grafiche con il comune di Maratea Cesare Albanese sindaco con il 39.38% delle preferenze e ancora andiamo a Marsi Covetere con Marco Zippari 60.93% delle preferenze eletto quindi sindaco e poi a Novasiri con Antonio Mele che viene eletto con il 54.99% delle preferenze a Picerno eletta sindaca Margherita Scavone 48.79% dei voti e ancora sempre in Basilicata Scanzano Ionico il sindaco eletto Pasquale Cariello con il 57.16% dei voti a Tito e sindaco Fabio Laurino che raggiunge il 64.3% delle preferenze e quindi chiudiamo con Venosa con Franco Mollica sindaco con il 53.84% dei voti questa è la situazione anche in Basilicata vi abbiamo mostrato le grafiche dei principali comuni chiamati al voto e noi così chiudiamo questa prima fascia restate con noi perché torneremo a parlare chiaramente di elezioni di comunali teniamo d'occhio il risultato di Lecce dove è davvero una sfida al photo finish tra Adriana Polibortone e Carlo Salvemini ma parleremo anche di elezioni europee con il record man di voti Antonio De Caro e poi c'è anche tanta cronaca a tra poco ben trovati ancora in diretta edizione interregionale del nostro TG nella prima fascia vi abbiamo raccontato tutto ma proprio tutto delle elezioni comunali facciamo un passo indietro torniamo alle elezioni europee con Fratelli d'Italia che a livello nazionale si conferma primo partito in Italia per la premier e candidata Giorgia Meloni oltre 2 milioni di preferenze nei risultati delle elezioni bene anche il partito democratico che ottiene il 24% dei voti flop Movimento 5 Stelle che fa registrare un importante calo Forza Italia supera seppur di poco la Lega esplora invece per Alleanza Verdi sinistra con Fratoianni e Bonelli soddisfatti allora facciamo un recap di quanto accaduto in queste elezioni europee con il servizio firmato dal nostro corrispondente da Roma Francesco Manigrasso Fratelli d'Italia si conferma primo partito spiorando il 29% seguito dal PD che supera il 24% ci hanno visto arrivare ma non ci hanno fermato dice la premier che ha definito questa una notte più bella delle politiche ci hanno visto arrivare ma non sono stati in grado di fermarci per Eliscilaine si tratta di un risultato straordinario siamo il partito che cresce di più dalle politiche la distanza con Fratelli d'Italia e con Giorgia Meloni si restringe questo era uno dei nostri obiettivi la campagna palmo a palmo fatta su tutto il territorio con 123 tappe attraverso il paese e soprattutto una squadra forte e plurale hanno premiato deluso il pentastellato Giuseppe Conte riconosciamo che è un risultato sicuramente deludente molto deludente rispetto a quello che la valutazione diciamo del punteggio politico nazionale potevamo sicuramente far meglio ma la valutazione dei cittadini è insindacabile Antonio Tegliani si dice invece soddisfatto del risultato di Forza Italia che sorpassa la Lega ci davano per spacciati siamo soddisfatti dell'accentuale raggiunta siamo vicini all'obiettivo che avevo prefissato e questo ci conferma che alle elezioni politiche noi potiamo raggiungere il quota 20% Vannacci per la Lega è il più votato ma pesano sul risultato le parole dell'ex segretario del Carroccio Umberto Bossi soddisfatto del punto di ripartenza che abbiamo adesso dovremo analizzare città per città provincia per provincia per quello che riguarda gli equilibri di governo non cambia nulla per quello che riguarda eventuali richieste non cambia nulla spero che possa cambiare la politica europea Bonelli e Fratoiani fanno l'exploit attestandosi al 6,7% portando Ilaria Salis a Strasburgo in una notte che vede un'Europa più nera un'Europa in cui è punito l'asse della guerra perché la guerra porta a nazionalismo destra xenofobia paura una proposta coraggiosa che ha messo in campo la pace la giustizia sociale la giustizia ambientale la solidarietà non ce l'ha fatta invece la lista Stati Uniti d'Europa di Emma Bonino e Matteo Renzi stessa sorte azione di Carlo Calenda Andiamo sul nostro sito antennasud.com abbiamo citato la Premier Giorgia Meloni la più votata in Italia Meloni che già dal pomeriggio di ieri ha raggiunto in anticipo rispetto alle previsioni la Puglia in direzione Borgo e Ignazia dove da giovedì si terrà il summit tra i grandi della terra il G7 insomma indiscrezione già emersa nel primo pomeriggio di ieri confermata con la Presidente del Consiglio dei Ministri che si trova in Puglia Borgo e Ignazia a confermare l'indiscrezione è stato Bruno Vespa che in 5 minuti si è collegato proprio in diretta con Giorgia Meloni la Meloni ha commentato ospite di Vespa il risultato delle europee con soddisfazione ma ha fatto appunto notare ha precisato che il centro-destra può ancora crescere nel frattempo sempre per quanto riguarda le europee sono 5 i pugliesi che sicuramente andranno a Bruxelles che si siederanno nel Parlamento europeo ma dovrebbero diventare 6 proprio con la rinuncia della stessa Premier Meloni il recordman di preferenze più votato proprio dopo la Premier è stato Antonio De Caro e allora facciamo un recap sui risultati in Puglia con il servizio di Salvatore Petrarolo C'è chi lo ha già ribattezzato effetto De Caro e chi guardando oltre il voto di domenica sera alle europee prova a leggerci un futuro da leader nel Partito Democratico Antonio De Caro è il vero vincitore di questa tornata elettorale quasi 500 mila voti di preferenza che spazzano via le tossine degli ultimi mesi con le polemiche e le vicende che hanno attraversato la vita politica della città dopo l'arrivo della commissione di accesso agli atti in comune il sindaco uscente di Bari un po' si mostra sorpreso di un risultato così a Valanga è un affetto enorme che mi arriva da più parti spero di non tradire questo patrimonio di consenso che mi arriva da più parti del sud spero di non tradire la mia gente di poterla rappresentare di rappresentare le amministratori locali come ho detto volevo portare un pezzo delle amministratori locali che ho rappresentato in questi anni in Europa dove si decide un po' tutto il pieno di preferenze significa anche un carico di responsabilità che De Caro porterà a Bruxelles senza farsi tentare da ambizioni di leadership nel Partito Democratico il Partito Democratico è una guida salda che è quella di Eli Schlein che è stata eletta qualche mese fa e che ha dimostrato con questa campagna elettorale di trainare il Partito Democratico un risultato importante anche grazie alla sua campagna elettorale sui temi vicini alle persone finalmente attraversando l'Italia da nord a sud gli altri eletti in Puglia a Bruxelles insieme ad Antonio De Caro anche Francesco Ventola 88 mila voti per il capogruppo in consiglio regionale Michele Piccaro quasi 55 mila voti per Fratelli d'Italia dovrebbe farcela anche la professoressa universitaria salentina Maria Chiara Gemma 46 mila voti il Movimento 5 Stelle invece in Puglia legge Mario Furore 38 mila voti 36enne di Foggia Eurodeputato uscente Valentina Palmisano 43 mila voti 41enne di Ostuni ex parlamentare attualmente presidente del Consiglio Comunale nella Città Bianca non ce la fa invece la ex sottosegretaria Maria Teresa Bellanova Stati Uniti d'Europa così come è fuori il parlamentare commissario della Lega Puglia Roberto Marti la Basilicata invece non avrà alcun rappresentante lucano nel nuovo Parlamento europeo nonostante l'ex presidente della regione Marcello Pittella sia stato il più votato tra le fila di azione il partito di Calenda non ha superato lo scoglio del 4% la Basilicata non avrà nessun rappresentante lucano a Strasburgo questo quanto determinato dal voto delle europee per il quale si sono recati alle urne il 47,30% degli aventi diritto percentuale che sale al 62,79% nei 52 comuni chiamati ad eleggere anche sindaci e consiglieri comunali in Basilicata il partito più votato è stato Fratelli d'Italia con il 25,50% delle preferenze seguono PD con il 23,18% e Movimento 5 Stelle con il 12,75% al quarto posto azione di Calenda che raccoglie il 9,28% delle preferenze rispetto al 3,34% votato nazionale e vede in Marcello Pittella il più votato nella circoscrizione meridionale con 32,914 preferenze l'ex governatore Lucano che il risultato essere anche il candidato più eletto tra le fila del centrodestra alle scorse regionali rimarrà dunque in via Verrastro in quanto azione non ha superato la soia del 4% notizia questa necessaria ed attesa per consentire al presidente Bardi di comporre la nuova giunta considerando che giovedì 13 giugno si riunirà il primo consiglio regionale della dodicesima legislatura mi auguravo qualcosa in più il raggiungimento della percentuale che facesse scattare i parlamentari europei cioè il famoso 4% per il resto grande soddisfazione personale di squadra perché il risultato ottenuto nella circoscrizione meridionale è stato straordinario per quanto riguarda le amministrative il dato finale sull'affluenza si è attestato sul 62,79% a Potenza dove gli exit poll vedono il candidato Fanelli tra il 51,5% e il 47,5% seguito da Telesca Smaldone e Giuzio l'affluenza è stata del 71,71% facciamo un salto all'interno della gazzetta del Mezzogiorno torniamo a parlare di comunali con la sfida Bari la lotteria del ballottaggio il nuovo sindaco tra due settimane il 23 e il 24 giugno si torna alle urne dialogo tra le due sinistre e poi l'interrogativo arriva la Meloni si parla ovviamente del voto nel capoluogo di regione nella notte di domenica quando iniziavano ad arrivare i risultati delle europee con il raccolto straordinario di Antonio Le Caro e del PD a Bari e nel mezzogiorno intero nel centro-sinistra si era iniziata a cullare l'idea della vittoria nelle comunali al primo turno dopo le 14 i dati hanno rinfocolato questa tentazione ma nel pomeriggio tutto si è stabilizzato e così il capoluogo regionale dovrà attendere altri 12 giorni prima di conoscere il nome del nuovo sindaco si va al secondo turno il 23 e il 24 giugno si sfideranno Vito Leccese sostenuto da PD Verdi e Civiche Emilianiste e De Cariane e Fabio Romito candidato del centro-destraunito Michele Laforgia con il supporto di Vendoliani e Contiani è arrivato terzo e rispettando i patti pre-elettorali ha annunciato una convergenza sulle Cese che non sarà indolore per i suoi sostenitori lo abbiamo sentito Laforgia tutt'altro che dimesso ieri incontrando la stampa ha rivendicato le sue scelte e ha annunciato la convergenza sulle Cese abbiamo creato uno spazio politico che non c'era così il penalista questo accordo però sembra non entusiasmare la base nessun clima dimesso nel comitato di Michele Laforgia candidato sindaco della sinistra dei 5 Stelle il giorno dopo il voto il verdetto che esclude la sua coalizione dal ballottaggio non c'è scoramento la sensazione generale che si sia consolidata una comunità politica pronta a dare ai propri rappresentanti nel consiglio comunale Laforgia arrivato quasi alle 20 nella sede di Corso Vittorio Emanuele ha ringraziato tutti ricevendo un lungo applauso dai militanti e dirigenti ma quando ha annunciato la convergenza su Vito Recesa nel secondo turno il plauso della sala è stato molto freddo a riprova di come il confronto elettorale abbia scavato un solco emotivo tra le due sinistre eppure la Forgia ha confermato appunto il supporto a Lecesa Lecesa che ha sfiorato il colpo e poi ha lanciato un appello ora la sinistra vada unita si riparte da pace ambiente ed antifascismo ha parlato anche Romito il candidato sindaco del centrodestra che va al ballottaggio la città può finalmente scegliere ha detto Romito che ha lanciato un forte appello indirizzato al centrodestra e anche agli elettori nel segno della discontinuità quindi a Bari sarà ballottaggio a Lecce dovrebbe essere ballottaggio ma non è detto perché appunto la città si è spaccata in due Adriana gioca col 50% due l'ultimissimo voto lo scrutinio estenuante uno scrutinio che ufficialmente non è ancora finito con la Polibortone che davvero si trova a pochi voti dalla soglia che le consentirebbe la vittoria al primo turno a tal proposito noi torniamo a questo punto in diretta lo facciamo davvero tutto live su Eligendo per vedere se ci sono novità per quanto riguarda lo scrutinio lo spoglio delle schede a Lecce e vediamo che no non c'è ancora alcuna novità sono 102 le sezioni totali ma i voti sono inerenti a 98 sezioni mancano quindi 4 sezioni al momento Adriana Polibortone candidata del centro-destra è ferma al 49.64% mentre Carlo Salvemini è salito al 47.0% al momento quindi si tratta di di ballottaggio si dovrà andare al secondo turno ma lo ripetiamo mancano solo 4 sezioni questo è il risultato aggiornato alle 6.54 di questa mattina è ancora fermo mancano 4 sezioni ancora da scrutinare anche perché a Lecce la situazione è un po' particolare si è trattato nello spoglio al vetriologo le schede contestate in una sezione sono arrivate addirittura i due sono arrivati addirittura i carabinieri l'effetto De Caro non all'ambito scrive Maddalena Mongiò per la gazzetta del mezzogiorno Lecce e Polibortone i leccesi sono stati molto generosi con me ha detto l'ex ministra del governo Berlusconi nella tarda serata di ieri la partita aveva una sola certezza Adriana Polibortone era in testa e l'unico dubbio riguardava la possibilità di un ballottaggio fra la lady del centro-destra il sindaco uscente Carlo Salvemini ad avvelenare il clima le tante schede contestate che hanno alzato i toni al punto che in una sezione sono intervenuti anche i carabinieri per tutto il pomeriggio i comitati dei due principali sfidanti si sono sfidati a son di cifre per il centro-destra Polibortone è stata in testa per molte ore per il centro-sinistra il sorpasso è stato certificato solo quando le schede scrutinate hanno superato il 90% ma il ballottaggio quando ormai manca una macciata di voti non è escluso essendo entrambi i candidati sotto il 50% la candidata del centro-destra Adriana Polibortone ha rischiato di vincere il primo turno in barba tutti i pronostici che in questi mesi la davano perdente a causa delle liste ritenute troppo deboli e per i presunti veleni che in tanti pensano siano stati solo messi da parte ma non scomparsi dallo scheramento i due outsider Agostino Ciucci e Alberto Siculella sono rimasti sotto le aspettative che avevano coltivato ma certamente hanno inciso nel determinare lo spoglio al cardiopalma di ieri avendo totalizzato 1700 voti complessivamente Ciucci ha dichiarato che per la natura trasversale del suo movimento al ballottaggio è probabile che ci sia un liberi tutti ma al tempo stesso non ha mancato di sottolineare che la maggior parte degli aderenti guarda a destra e quindi buona parte dei loro voti dovrebbero confluire su Polibortone Siculella si è preso un po' di tempo si è aspettare la chiusura delle urne per analizzare il voto e poi decidere come orientarsi anche se ha precisato che non ho mai chiesto il voto per me e quindi non lo chiederai per gli altri bisogna valutare i programmi scegliere va detto che già nella seconda giornata di voto nel centro-sinistra aspirava a una consistente sfiducia rispetto agli esiti del voto mentre il centro-destra aveva dispiegato le sue forze con una presenza massiccia nei seggi caldi un pessimismo che non è scemato neppure dopo la calamorosa affermazione di Antonio Lecario che ha doppiato anche Luciana Annunziata in termini di preferenze ma neppure nelle più nere ipotesi si immagina che Polibortone potesse rischiare di vincere il primo turno e poi l'ipotesi è ancora in campo quando mancano le ultime schede da scrutinare quando mancano lo vediamo ufficialmente quattro sezioni la situazione ancora ferma 98 sezioni su 102 Adriana Polibortone ferma al 49.64% una percentuale ampia alta ma che non basta per vincere al primo turno se si dovesse confermare se non si dovesse modificare questa percentuale si dovrebbe andare al balottaggio con la sfida con il sindaco uscente Carlo Salvemini per il centro-sinistra al momento fermo al 47% dei voti andiamo torniamo sul nuovo quotidiano di Puglia con la situazione appunto sulle comunali riprendiamo quello che è accaduto a Lecce poi gli avanti Sun Salvemini al photo finish ma la sfida è aperta voto su voto scrive Paola Colaci scheda dopo scheda un pugno di preferenze a fare la differenza e percentuali che per tutta la giornata hanno continuato ad oscillare appena sopra o di poco sotto la soglia critica del 50% consegnando a fase alterne la vittoria del primo turno alla candidata del centro-destra Adriana Polibortone oppure rimandando al ballottaggio la sfida con il sindaco uscente ricandidato del centro-sinistra Carlo Salvemini lo abbiamo seguito in diretta allo spoglio con la nostra Maria Teresa Carrozzo ma è uno spoglio che non è ancora finito perché in ballo ci sono ancora dei voti che potrebbero essere determinanti per sancire appunto una clamorosa vittoria al primo turno da parte di Adriana Polibortone quindi del centro-destra o piuttosto come al momento sembrerebbe una sfida un duello al ballottaggio tra Polibortone e Salvemini tra centro-destra e centro-sinistra lo ripetiamo la situazione andiamo a rivederlo perché potrebbe cambiare da un momento all'altro è sempre la stessa i dati sono fermi alle 6.54 con 98 sezioni scrutinate su 102 Polibortone al 49.64% e Salvemini invece è fermo al 47% così rimanesse la situazione si andrebbe al turno di ballottaggio e questa appunto la situazione per quanto riguarda la città di Lecce vedremo se poi ci saranno degli aggiornamenti più avanti prima di chiudere questa fascia apriamo una breve pagina dedicata alla cronaca un tragico incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 38 che collega a Pricena a San Nazario ha causato purtroppo la morte di un giovane di 35 anni e l'efferimento di una ragazza la vittima a bordo di una moto ha perso la vita sul colpo a seguito di un violento impatto con un'auto la ragazza che viaggiava con lui è stata trasportata in ospedale a San Giovanni Rotondo sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno lavorando per ricostruire la dinamica di quanto accaduto ancora cronaca con in primo piano il traffico di droga e le 31 misure cautelari eseguite nel barese oltre al sequestro di beni per un valore di circa 2 milioni di euro questa è l'attività condotta dalla guardia di finanza a Bari un imponente giro di droga tra Bari la sesta provincia e Foggia sono 31 gli arresti in tutto 15 in carcere 14 domiciliari e 2 obblighi di dimora tutti indagati a vario titolo per i reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti produzione e detenzione illecita sequestrate anche beni per 2 milioni di euro l'operazione è stata condotta dal comando provinciale di Bari della guardia di finanza su disposizione della procura scoperti sequestrati 150 kg di hashish e 200 mila euro in contanti gli accertamenti avrebbero inoltre dimostrato che l'associazione fosse connotata da un'elevata capacità organizzativa e dotata di una rilevante disponibilità di mezzi finanziari e strumentali disponendo di una cassa comune e una vera e propria contabilità d'esercizio e persino di un'assistenza legale ad hoc tra strumenti di comunicazione criptati e linguaggi allusivi i responsabili sarebbero riusciti a rifornire in modo sistematico e capillare diverse piazze delle province di Foggia Bari e Labatt fino alle zone costiere dell'Abruzzo nasce da un'indagine che già si è conclusa un tempo fa che riguardava traffici di sostanze supefacenti nella città vecchia di Bari attraverso l'analisi dei canali di rifornimento si è arrivati ad Andria un soggetto andriese importante a sua volta poi rifornito da soggetti di altro territorio in particolare si è arrivati al nucleo essenziale che è di Orta Nova provincia di Foggia foggiani che rifornivano il gruppo di Orta Nova e poi questo gruppo di Orta Nova che distribuiva sostanze stupefacenti di tipo cocaina ed ascisce soprattutto in tutto il territorio delle tre province ed è tutto anche per questa fascia la linea va ora alla regia breve pausa poi tutte e tante le notizie sportive poi rientriamo ancora in diretta con tante altre news parleremo di cronaca parleremo di G7 ma torneremo anche a parlare di elezioni a dopo rimani connesso scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo